Il giovane cattolica Qualcosa come nove vittorie e un pareggio nelle precedenti 11 partite Eppure anche il Torconca stava viaggiando molto forte E rappresentava un ostacolo durissimo per gli ospiti Ci prova Gasperini La sua conclusione è contrastata dalla difesa della giovane cattolica Che ha l'occasione però sulla punizione di Pasolini al diciottesimo Pallone che sfiora il palo alla destra del portiere Melchiorri Un primo tempo molto tattico Si spegne così sul 0-0 Molto più scoppiettante l'inizio della ripresa Al secondo minuto c'è Cristofano atterrato in area di rigore Arriva la segnalazione del direttore di gara Penalty dunque per i padroni di casa Che subiscono anche la munizione per Casolla Dal dischetto si presenta Fedeli Fedeli contro Andreani dunque per la possibile trasformazione Che arriva per il Torconca 1-0 Vantaggio per la squadra di Filippo Vergoni E possibilità dunque di accorciare la classifica Del campionato di promozione Servita su un piatto d'argento Anche se arriva la reazione del giovane cattolica C'è un campanile alzato L'uscita di Melchiorri Come può? Alla fine Arriva il calcio di punizione Segnalato perché Melchiorri ha toccato il pallone Secondo il direttore di gara Fuori dall'area di rigore Anzi no Dentro l'area di rigore dunque Una punizione indiretta Per il giovane cattolica Che però la spreca Con Pasolini La sua trasformazione Che termina alta sulla traversa Vediamo ancora le proteste Dei giocatori ospiti Per reclamare Possibilmente Una sanzione ancora più grave Rispetto a quella Che vi abbiamo appena testimoniato Ma il Torconca può agire anche in contropiede Con questa possibilità Con la conclusione Ancora di Cristofan Sull'assist Di Renzoni Pallone sul fondo del campo Sempre una zero per il Torconca Sempre il giovane cattolica Dover cercare di pareggiare i conti Il pallone che spiove in area di rigore Si libera degli avversari Pasolini Gli manca però l'ultimo atto Della sua coordinazione Per cercare di trasformare In rete questa possibilità Che resta solo virtuale Ultimi dieci minuti Ancora in attacco Il giovane cattolica Calcio ad angolo La palla che spiove Un nugolo di gambe Alla fine la deviazione Con Melchiorri Che salva la propria porta E mantiene così Un vantaggio Seppur minimale Per il Torconca Che cerca anche Di uscire in disimpegno Ma perde inopinatamente Palla a centro campo E riesce Toccando forse anche il pallone Con le mani La cattolica A portarsi in attacco Ed è l'occasione vincente Per Pasolini Che scavalca Il portiere Melchiorri E trova cinque minuti Dalla fine Il pareggio Che sicuramente Sarà contestato Per una possibile Irregolarità All'inizio Dell'azione Ma fatto sta Che è un pareggio Pesantissimo E come vediamo Festeggiato anche Dai tifosi ospiti Con grande enfasi Pareggio per uno a uno Tra Torconca E Giovane Cattolica In un match Sicuramente Dagli alti contenuti Agonistici Grazie a tutti